Too late or too late and I can't wait Wow 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 cari amici appassionati di Fanta Calcio Benvenuti, ben rientrati, oggi la mia rosa del Fanta Calcio Soprattutto gli undici titolari Quelli che avranno la prelazione sul posto in campo Intanto vi dico e vi aggiorno su Fanta Calcio Che faccio tutti gli anni con i miei amici storici Il nostro Fanta Calcio parte da lontano Parte dal 1993 Molti di voi non erano nemmeno nati suppongo Quindi un po' di esperienza l'ho fatta Abbiamo giocato quasi tutti gli anni E' un Fanta Calcio particolare perché nasce in un momento In cui il Fanta Calcio era solo per sentito dire Non esisteva Si sapeva che si prendevano i voti della gazzetta C'erano dei bonus, il gol valeva più 3, qualcosa del genere E quindi era stato fatto un regolamento tutto inventato A cui anche io ho contribuito in maniera preponderante Per esempio Non c'è il modificatore di difesa Non hanno mai voluto mettere il modificatore di difesa Ma allora come fai a rendere appetibili i difensori? Più 5 al gol del difensore Sì, Teo Hernandez va su abbastanza E anche Gossens Per esempio questo Gli assi ci sono Da quest'anno ci sono anche da fermo Non ci sono le fasce Ma devi avere 3 punti in più del tuo avversario per vincere 3 punti Sono regolamenti particolari lo so ragazzi Ma più o meno insomma La squadra più forte vince comunque La squadra che fa gli acquisti migliori La squadra che merita Se il calendario Te l'ha da buona E tra parentesi raga Se il portiere segna È più 10 Non è mai successo Che uno abbia messo un portiere che ha segnato Ma se il portiere ti segna È più 10 È importantissimo Abbiamo rose libere Di 30 giocatori Rose libere Una volta erano 26 L'hanno portato a 30 Perché uno le fa la scommessina La scommessona La scommessella Figuratevi che in origine Non c'era limite Quando tu andavi a comprare un giocatore All'altra squadra Gli potevi offrire anche 7 8 10 giocatori in stock Super offerte in stock Per averne uno Perché tanto le rose erano libere Quindi finché non finivi i soldi Potevi mettere anche 40 50 giocatori Poi abbiamo ridotto a 26 Adesso siamo portati a 30 E devo dire che mi trovo bene Come libertà Di slot E puoi fare Chiaramente essendo libere 2 portieri 3 portieri 4 portieri 5 portieri 7 attaccanti 8 attaccanti 4 difensori 11 centrocampisti L'importante è che alla fine siano 30 Questo è il nostro regolamento Molto particolare Ma ora andiamo a vedere I miei 11 titolari E i possibili sostituti Numero 1 Portiere Rui Patricio Volevo Magnan Non sono riuscito a prendere Ho cambiato Sul portiere della Roma E tutti e tre i portieri Sono quelli della Roma Quindi Mi sembra una buona presa Una dischetta presa Ci sta Sicuramente uno dei top 1 Top 2 Qualcosa del genere Rui Patricio Numero 2 Di Lorenzo La sicurezza Mi aspetto quest'anno Una crescita espotenziale Da parte dell'esterno del Napoli Speriamo anche in qualche gol Numero 3 Skrignar Preso fine asta a 2 Perché dovete anche sapere Che la nostra asta è Completamente randomizzata C'è il listone C'è un computer Clicchi il bottone Esce un nome Quindi E può essere un portiere Un difensore Un attaccante Un centrocampista Non si sa Ti devi continuamente Adeguare a quello che accade Non è a chiamata Non è a ordine alfabetico Non è a ruoli È totalmente random Una maratona assurda Skrignar Pagato 2 Pum Uno dei miei pupilli Torna Con la maglia numero 4 Bremer Dai Bremerone Continua a segnare per il Torino Speriamo che si confermi Ai suoi livelli E vi elenco anche Gli altri difensori Che ho preso Che farò girare Augello Ferrari del Sassuolo Martini a squarta Ci punto molto Su Martini a squarta E Stiger Latte Larsen Non ho preso molti difensori Speriamo di non arrivare corti Ora passiamo al centrocampo Centrocampo Punta di diamante Gli centrocampisti Vere tu Calci d'angolo Calci di punizione Inserimenti Gol Rendimento E speriamo che non si faccia mai male Jordan Michael Jordan Vere tu Ragazzi Uno dei top Top 1 Uno dei top 1 Sicuramente sì E di fianco a lui Il mio slot numero 2 Per i centrocampisti È Orsolini Sono riuscito a portare via Una cifra decente L'esterno del Bologna L'anno scorso è un'ottima stagione Candreva Ok il centrocampo non è il massimo Ma vi dico quelli che gireranno Soprattutto Con Candreva e Marin Elmas Kovalenko Maggiore Sì ho fatto Kovalenko Maggiore Ha fatto una presa un po' particolare Sbagliata Miguel Veloso E Rullo di tamburi Adrien Rabiot Preso a uno Odiano tutti Preso a uno Però l'ho messo lì Secondo me giocherà molte partite Magari chissà Magari trovo la quadra Vabbè comunque è quella E poi il tridente d'attacco Perché se non sono riuscito a fare un ottimo centrocampo È perché mi sono dedicato gli attaccanti Ne ho presi una valanga Una valanga di attaccanti I migliori sono Il tridente d'attacco è Vlaovic Speriamo che suanno Speriamo che suanno Speriamo che suanno Perché la Fiorentina ha una coppe Ha un ottimo allenatore La formazione mi piace Lui tira i rigori Vlaovic Morata Jeppe Morata Speriamo che Kim Oken Non gli rubi il posto Comunque Morata E il Gallo Belotti Quindi Vlaovic Belotti Morata Nel tridente Di questo fantacalcio A 8 E a 8 Il fantacalcio Questo è il tridente Però poi in panchina Raga c'ho Una sfilza di nomi Che se qualcuno vuole un attaccante Deve passare per forza da me Perché Oh Buxa Ve l'avevo consigliato il grandissimo Buxa preso a 1 Lo mettiamo lì Deolofeu Lozzano Politano Pedro Attenzione che qua si inserisce Pedro nel tridente Zmurdov E Verde Questa Sono i miei 30 giocatori La mia rosa Per affrontare Questo fantacalcio A 8 Con tanti amici Dovrò farne un altro E venerdì Domani Dovrò andare ad affrontarlo a Milano Vi manderò delle storie su Instagram In un posto In una location segreta Ma che poi vi svelerò Cerchiamo di fare una buona rosa Non conosco gli avversari Questa non è il massimo Mi sto leggendo un po' le regole Del loro fantacalcio Però scoprirete dove si farà l'asta E sarà un bel posto Raga fatemi sapere Voi cosa ne pensate della mia rosa Che vi ho elencato Magari ve la mostro anche un attimo Eccola qua Rui Patricio Tutti quanti Eccolo qua Eccoli qua Eccola qua Belotti Buxa De Luffeo Lozzano Morata Pedro Politano Zmurdo Verde Vlaovic Ho tolto risorse dagli avversari Chissà quanti gol in panchina che lascio Chissà quanti gol in panchina che lascio Guarda non ci vogliono neanche pensare Raga Come la valutiamo la mia rosa Fatemi sapere qui sotto Spero di non aver fatto cagate Mi sembra che i giocatori Che volevo prendere davvero Gli ho presi Ho pagato troppo Vlaovic Ma ho rispondato su tantissimi altri Fatemi sapere Vi ringrazio per i vecchi commenti E le visualizzazioni Un saluto dal Duca E da Robert Alla prossima Ciao